Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 14 km di coda per traffico congestionato tra Firenze in Pruneta e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Ancora in direzione Bologna per lavori corsie di sinistra chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Spostandoci sulla FIPILI per lavori possibili e disagi tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in entrambe le direzioni. Stanotte in orario 22.06 sarà chiuso il tratto tra Ginestra e la Strassigna verso Firenze. In direzione Livorno, code a tratti tra Scandicci e la Strassigna e code in uscita alla Strassigna. Rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!